Un evento che si inserisce all'interno delle attività di ricerca e di terza missione del Dipartimento di Architettura di Pescara dell'Università d'Annunzio ed è stato interpreso con la sottoscrizione di alcune convenzioni scientifiche con l'ATER Pescara e i comuni di Pescara Montesilvano e Spoltore. Così il presidente dell'ATER di Pescara Mario Lattanzio e l'assessore comunale all'edilizia pubblica e privata Isabella Del Treco sulla giornata a Laurum. L'abitare insieme è un affresco comune a partire dall'edilizia residenziale pubblica nei territori di Pescara, Spoltore e Montesilvano anche alla luce della nuova realtà che nascerà nel 2027. Nei mesi precedenti circa 40 studenti e collaboratori coordinati dal professore Alberto Ulisse hanno avviato il lavoro di studio e definizione di linee guida progettuali sulla rigenerazione urbana di via Rigopiano a Pescara e via Rimini a Montesilvano. Questo processo condiviso con gli uffici tecnici dell'ATER in linea con le attività di ricerca applicata oggetto delle convenzioni ha come obiettivo la rigenerazione urbana di alcuni quartieri di edilizia economica e popolare dei territori comunali interessati. Il presidente dell'ATER Pescara, Mario Lattanzio. Che cosa andiamo a fare? Su Pescara andremo, grazie all'università, con gli alunni dell'università, i loro docenti e il nostro personale tecnico a risolvere le problematiche relative al redo esterno e alla parte delle barriere architettoniche, che è la zona di Rigopiano, su Montesilvano, su via Rimini, Spoltore si sta decidendo col comune cosa fare e si faranno delle progettazioni insieme ai nostri tecnici che poi già possiamo iniziare a fare qualcosa di concreto perché abbiamo dei fondi FSC, la prima tranche che c'era la regione Abruzzo di circa 4 milioni e con questi inizieremo a fare queste operazioni. La cosa che a noi ci fa piacere e che ci teniamo tanto è il fatto delle barriere architettoniche perché queste palazzine sono state riqualificate come potete vedere esternamente ma hanno la problematica delle scale e la gente è sempre più anziana, ci sono i disabili, quindi con questi interventi andremo a risolvere questa grossa problematica. Riqualificazione e rigenerazione degli alloggi esistenti ma, ha precisato il consigliere rieletto e presidente del Consiglio regionale uscente Lorenzo Sospiri, in futuro la costruzione di nuove case, come l'Università d'Annunzio ha contribuito al progetto il Rettore Liborio Stupia. Allora in questo momento abbiamo tre comuni che stanno decidendo di fare uno sviluppo insieme, lo sviluppo di un'area metropolitana, uno sviluppo che deve essere armonico, l'abitare è diventata una tematica che in questi anni è legata molto anche alla salute, anche all'invecchiamento di successo e allora per fare un po' da cabina di regia a tutto questo l'Università mette insieme, mette a disposizione del territorio una serie di competenze che sono in questo caso soprattutto quelle di architettura ma in realtà anche di altre discipline per fare un po' da cabina di regia in questo processo propositivo.